Lo fai vedere? Ok, il medico è costretto a fare le flessioni se in ritardo alla scuola ortopedia di Salerno. Vediamocelo un attimo, scusa, me lo fai vedere? Il medico è arrivato in ritardo? Vedi? Perché devono entrare alle sei e mezza. Vedi? Sette, eh oh! Oh, ne fanno... Guarda che non è male come metodo, tu pensa se in tutti i comuni d'Italia adottassero lo stesso metodo in caso di ritardo degli impiegati avremmo gli uffici pieni di iurichecchi, eh? Eh no, e non ridete, no, è un metodo leggermente dittatoriale, però avremmo l'Austria con la bava alla bocca che ci guarderebbe dicendo MINGHIEG EFFICIENZA IN ITALIA E CHE PETTORALIA, NAH! E comunque aspettando che l'ONU adesso si occupi anche del conflitto tra il nord e il sud dell'Italia Credo che ora ci sia un collegamento video con lo Zelensky di Salerno Guardiamocelo Grazie.